Sono molto felice, lo dico con sincerità, perché è stato un percorso lungo, che ha visto tante persone impegnate, è stata la vittoria di un gruppo, è stata la vittoria della gente, è stata la vittoria di tante persone che hanno contribuito a costruire queste idee di città insieme. Ringrazio anche i miei due competitor, perché è stata una competizione bella, leale e costruttiva, che ha portato a coinvolgere tanta città, perché più di 6.300 elettori ci hanno seguito e credo sia un risultato straordinario a frutto del lavoro di tutti. Voglio anche ringraziare la mia famiglia che mi è stata vicina e che ha sacrificato un po' in questi mesi per i tanti impegni, il tanto lavoro che abbiamo fatto. Grazie a tutti, da domani si ricomincia a lavorare.